E ora che farai? Non lo so. Andarmene. Dimenticare. Non lo so. Dimenticare la triptocaina, vuoi dire? È il metodo migliore che ho trovato. Solo che non è la soluzione. Per ora, non cerco una soluzione. Voglio solo dimenticare. Mi sa che ti sei fatto coinvolgere più del dovuto, Norman. Perché dici così? Sto bene. Supererò anche questa. Prendiamocela con calma. Vediamo cosa succede alla fine. Se ci sarà una fine. Prendiamo cosa succede alla fine. Soprattutto per me. Per ora, non cerco una cosa. Però... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E hai goduto del dolore dei genitori e dei bambini che hai ucciso. Ho giurato sulla tomba di mio figlio che avrei ucciso l'uomo che l'ha assassinato. E terra fede al giuramento.